Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video di Funghi Natura Valtellina. Oggi si continua con la serie Conoscere i Funghi, andiamo avanti con la serie che ci ha accompagnato per tutta la bassa stagione. Vado a presentarvi un fungo molto particolare della famiglia delle Amaniti, in particolare la Amanita Rubescens, che è un fungo appunto molto particolare del quale bisognava comunque approfondire un attimino le sue caratteristiche che vado a farvi appunto in questo momento, che vado a presentarvi in questo momento. Il cappello va dai 3 ai 16 cm, è carnoso, da emisferico ad appianato, il margine è regolare, liscio e quasi maestriato. La cuticola è molto brillante, colore bruno rossastro marroncino, ricoperto da numerose verruche. Di colore grigio biancastro. L'imenoforo è formato da lamelle libere e fitte, il colore è biancastro, le sfumature sono rosate, ove erose o manipolate. La sporata è biancastra, il gambo va dai 4 ai 18 cm per gli 1-4 cm, è cilindrico regolare pieno, poi farcito o cavo. Di colore bianco rosato, poi vinato brunastro. L'anello è membranoso, ampio, alto, striato e di colore bianco rosato, con sfumature di colore zolfo. La volva è frammentata in verruche brunastre o pallide, arrotondate e appressate al bulbo basale. La carne è tenera, il colore è bianco e tende ad assumere tonalità rossastro al taglio, specie nello stipite. È molto spesso larvata, in odore, sapore abbastanza gradevole e aromatico. L'ecologia è un simbionte, fruttifica dalla primavera all'autunno, in boschi sia di conifera che latifoglio, quindi se volete raccoglierlo lo trovate sia in boschi di conifera che latifoglio. È un commestibile dopo adeguata cottura, poiché nelle sue carni sono contenute tossine termolabili, quindi che variano a seconda della temperatura e che appunto scompaiono tramite cottura prolungata e adeguata. Quindi mi raccomando, se volete prenderli, sempre un'ottima cottura prima di cibar bene. Il sapore è molto deciso e pronunciato. Ovviamente non la raccolgo, proprio per non rischiare con queste, diciamo, intossicazioni, ma comunque è commestibile. Fatemi sapere voi se la raccogliete o se l'avete mai assaggiata. E comunque fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Mi invito a lasciare mi piace se non l'avete ancora fatto, iscrivervi al canale, attivare la campanellina delle notifiche, condividere il video sempre con tutti i vostri amici, come vi dico ogni volta. E noi ci vediamo in un prossimo video, una buona giornata e ciao a tutti!